Il nuovo coronavirus continua a circolare negli Stati Uniti. Oltre 53.000 i casi accertati nelle ultime 24 ore. Quasi la metà di essi, 25.000, solo in quattro stati. Arizona, California, Florida e Texas. Il paese finora non aveva mai registrato così tanti contagiati in un giorno. Secondo la Johns Hopkins University, negli ultimi nove giorni ben sei volte è aumentata la curva quotidiana delle infezioni. Stiamo mettendo sotto controllo la situazione, ha commentato ieri il presidente americano Donald Trump. Ma gli Stati Uniti restano il paese con il più alto numero di casi di nuovo coronavirus. 2.740.000, un quarto del dato globale arrivato a quasi 10.900.000. L'emergenza sanitaria condizionerà le celebrazioni di domani, 4 luglio, giorno dell'indipendenza, durante il quale gli americani sono soliti ritrovarsi per festeggiare l'anniversario con spirito patriottico. Ma quest'anno sarà una festa a rischio per la salute. La preoccupazione infatti riguarda la diligenza degli americani nel rispettare le norme per prevenire il contagio. Diversi stati hanno già provveduto a reintrodurre delle restrizioni. La contea di Miami, Florida, da questa sera adotterà il coprifuoco notturno, dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Il governo del Texas ha ordinato l'obbligo della mascherina in gran parte del territorio statale. In California, bar e ristoranti è stato limitato di servire i clienti solo all'esterno ed è stato lanciato l'appello per indossare la mascherina anche nei raduni familiari di domani per la festa dell'indipendenza.